Sì, infatti, buongiorno a tutti, buongiorno ai bambini, è sempre un piacere averli e vederli sempre nell'iniziativa, ma soprattutto in questo genere di iniziative importanti, in queste feste importanti, perché oggi siamo qui a presentare la festa dello sport, la festa del cuore. Ancora una volta la dimostrazione di Grossego, di come noi cittadini di Grossego siamo sempre uniti e pronti ad affrontare con il divertimento anche queste occasioni dove andiamo a portare un supporto, un aiuto purtroppo alle persone che sono state meno fortunate di noi. In questo punto di vista il comune di Grossego sarà sempre presente a questo genere di iniziative, perché appunto divertendosi possiamo veramente anche fare del bene. Quindi un ringraziamento agli organizzatori, al comitato per la vita e la WISP, sono sempre pronti ad impegnarsi quotidianamente in questi eventi appunto per dimostrare la loro generosità. Quindi siete tutti invitati la serata, convincete i vostri genitori a partecipare proprio per dimostrare l'unione e la forza di Grossego, sempre pronta, sempre uniti proprio per la generosità. Quindi viva lo sport e viva Grossego!